In preoccupante aumento il fenomeno della dipendenza da gioco coinvolte in particolare le giovani generazioni al campus di Belpiano, al Via, il primo progetto in Liguria di terapia di gruppo. Nuovo filone d'indagine della Procura di Genova sulla sicurezza delle barriere fonoassorbenti installate in A12. Intanto convocati tutti i concessionari Liguri per la verifica dei viadotti. Incontro tra il Vescovo e i dirigenti scolastici del Tiguglio riuniti nella rete Merani. Aveva 48 anni il dipendente Enel Giampaolo Carreddu, vittima di un incidente avvenuto in A12 fra Deiva e Sestri Levante, coinvolte tre persone in due diversi scontri. La fusione dei comuni porta vantaggi e garantisce servizi di qualità, a dirlo il Deivese Antonello Barbieri, presidente del coordinamento nazionale. Passione per lo sport e sfida educativa, due pilastri per un allenatore nella serata organizzata dall'AiAC a Chiavari, consegnati i riconoscimenti agli allenatori dell'annata 2018-2019. In sciopero i lavoratori della IML di Casarza Liguri, da tre mesi senza stipendio, convocato per il 19 dicembre a Genova, un incontro tra azienda, regione Confidi e un istituto bancario per risolvere il problema della liquidità. Tornata la neve in Val Davito, temperature sotto zero sulle alture, la quota minima sul Monte Buo è meno 5,6 gradi, paesaggi imbiancati anche a quote basse. Dal 1 gennaio la linea bus gratuita C2 di Chiavari fermerà anche al centro Benedetto Acquarone. Ritirata in consiglio la pratica sulla chiusura dell'asilo nino comunale di Lavagna, la giunta prende tempo e studia un bando per un servizio di qualità. Riaperta la cappella di Palazzo Franzoni a Lavagna, il luogo di culto risalente al 1600, decorato con una pala ad altare e affreschi. Aggiudicate le prime opere donate dalla confraternita Fidu Salma per finanziare i restauri della Cattedrale di Chiavari, le opere rimaste in mostra nello spazio Casoni in attesa di una seconda asta. Una nuova luce per Portofino, inaugurata la sfera galleggiante che dona al Borgo un'immagine suggestiva natalizia, il comune intanto entra a far parte del Genova Liguria Film Commission. Nel giorno della presentazione del bilancio sociale, la ASLE 4 ha svelato i nuovi reparti dell'ospedale di Sestri Levante. A gennaio intanto aprirà la nuova traumatologia d'urgenza al pronto soccorso di Lavagna. Un saluto a tutti, ben trovati all'appuntamento con il Tg, guardando la settimana la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tguglio negli ultimi sette giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, vi parliamo di dipendenza da gioco, un convegno ha fatto il punto per quanto riguarda il nostro territorio. è emersa anche la notizia che al campus di Belpiano, per la prima volta in Liguria, verrà portato avanti un'attività di terapia di gruppo contro queste problematiche. Vediamo. È un'esperienza sperimentale, è la prima volta che si prova in Liguria questo tipo di intervento. Di solito ci sono interventi comunitari molto più lunghi. Noi vogliamo provare a fare un periodo di cura intensiva e da proporre a chi ha necessità di un periodo di sosta per riprendere in mano il proprio problema. Un soggiorno di otto giorni nel campus di Belpiano per affrontare il problema della dipendenza dal gioco e in gruppo lavorare su consapevolezza e volontà di uscirne. Parte per la prima volta in Liguria al progetto di terapia di gruppo per combattere il fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Una dozzina ai soggetti destinatari dell'iniziativa, di quello che vuole diventare un programma di riabilitazione innovativo che punta a coinvolgere le diverse realtà impegnate nel contrasto al gioco. Sarà fatta come proposta a quelli che sono già pazienti, che si rivolgono agli operatori del gambling, del servizio, piuttosto che con l'aiuto dei medici di base, anche a quelle persone che manifestano un problema e si rivolgono al medico di famiglia per consigli, per sostegno, eccetera, oppure in tutta una serie di altri luoghi in cui, ahimè, possono capitare i giocatori d'azzardo a chiedere aiuto, ad esempio, la banca. La novità è stata presentata nel corso di un convegno sul tema che si è svolto al centro benedetto a Cuarone di Chiavari. Quella legata al gioco è una dipendenza che coinvolge un sempre maggior numero di soggetti con diverse connotazioni. In realtà, quelli seguiti dalle strutture sanitarie sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto radicato e purtroppo in aumento. Non solo, grazie alla diffusione del gioco online attraverso computer e telefonini, il fenomeno si sta allargando alle giovani generazioni, i cosiddetti nativi digitali, che spesso sono lasciati da soli ad affrontare una problematica sconosciuta e sottovalutata. Come si se ne accorge che qualcosa non sta funzionando? Ebbè, ma quando un ragazzo comincia a stare ore su, dico io, un tablet, durante la giornata invece di uscire, frequentare gli amici, palipa, il tempo lo passa a giocare a videogiochi o scommesse su questi dispositivi, comincia a essere preoccupante. Questi sono i primi segnali d'allarme. Un'indagine della Procura di Genova apre un capitolo sulle barriere fonoassorbenti. Sulla autostrada A12 installate negli anni scorsi sarebbero a rischio e su questo indaga la Procura. Parleremo di questo, ma anche di scuola, con l'incontro dei dirigenti della rete Merani che hanno fatto il punto sul nuovo anno scolastico e successivamente hanno incontrato anche il nostro Vescovo Diecesano. Vediamo. Gravi criticità sulla sicurezza delle barriere fonoassorbenti, con specifico riferimento a quelle del primo tronco autostradale della A12 dove sono stati registrati in questi anni anche alcuni problemi strutturali, come per esempio nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante. Nasce da una costola dell'inchiesta legata al crollo di Ponte Morandi e dall'esame dell'ingente documentazione sequestrata il nuovo filone di indagini della Procura della Repubblica di Genova. Questa volta a finire nella lente dei magistrati gli appalti legati all'installazione delle barriere modello Integautos installate in questi anni lungo la tratta autostradale del Levante. In queste ore gli uomini della Guardia di Finanza di Genova stanno eseguendo nuove perquisizioni e sequestri negli uffici di autostrade per l'Italia, SPEA Engineering e Pavimental. I militari stanno cercando progetti, relazioni di calcolo, collaudi, omologazione dei materiali, ma anche documenti amministrativo contabili. Cinque fanno sapere gli inquirenti, le persone al momento indagate nell'ambito del nuovo filone di indagine tra ex manager e dirigenti delle società coinvolte. L'accusa nei loro confronti è di frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti. Intanto, in materia di sicurezza della rete autostradale, arrivano le prime risposte, chieste ripetutamente dalla Regione al Ministero. Lo comunica in Consiglio regionale l'assessore alle infrastrutture, Giacomo Giampedrone. Ci sono volute tre lettere, due del Presidente della Regione e una mia, più una chiusura di ben due viadotti, senza preavviso, il Fado e il Pecetti sulla A26 Genova-Gravelonatoce, per arrivare alla convocazione da parte dell'Ufficio Ispettivo del Ministero dei Trasporti, di tutti i concessionari autostradali Liguri e avviare con loro un percorso di ispezione sulla sicurezza di tutti i viadotti. L'incontro, ha spiegato l'assessore, si è tenuto il 4 dicembre. I concessionari hanno portato una tabella con i voti relativi allo stato di ammaloramento dei viadotti e gli interventi prioritari. Esaminati gli atti, sono scattate le visite ispettive straordinarie. Sono avvenute tra il 4 e il 6 dicembre. La Regione, inoltre, ha spiegato Gianpedrone rispondendo ad un'interrogazione del consigliere Claudio Muzio. Ha chiesto al Ministero un advisor terzo che le consenta di poter effettuare controlli sia sui viadotti, sia sulle opere che su di essi vengono messe in campo, per dare così una valutazione propria. Con che spirito si ricomincia? Con entusiasmo. Si congiungono in questo momento la leva dei dirigenti scolastici del precedente concorso con quella di questo nuovo concorso. Nuovi volti, volontà, determinazione, idealità e anche un clima estremamente positivo di collaborazione. C'è la volontà di trovare una coesione nuova anche col territorio, di proseguire il lavoro precedente e di riuscire a rispondere in maniera sempre più adeguata, con una mentalità di rete, ai bisogni formativi del territorio, quelli più evidenti, quelli nascosti. Quali sono i temi sul tavolo che avete affrontato? Oggi abbiamo parlato di inclusione, abbiamo parlato di formazione dei docenti, del nuovo piano di formazione dei docenti neoassunti, abbiamo parlato di progetti antidispersione, sia legati a soggetti esterni che collaborano con la rete, come il villaggio del ragazzo, sia progetti nei quali la rete ha un ruolo più attivo. Oggi l'incontro con il Vescovo, anche questo è un legame con il territorio? Sì, è un incontro tradizionale che a noi fa molto piacere, c'è come dire un sentimento di rispetto reciproco e di volontà di dialogare sul tema centrale che ci accomuna dell'educazione. La realtà del territorio è coesa, anche oggi la riunione della rete Merani, c'è una rete che si sta costruendo intorno alle scuole e questo come viene vissuto dal dirigente che si trova a entrare in questa realtà? Piacevolissima sorpresa, condividere significa mettere insieme delle risorse, lavorare per risolvere le criticità e credo sarà una bellissima esperienza per me. Lei ha da poco assunto la dirigenza del Marconi del Pino, come sta andando? Un'esperienza meravigliosa, sono felicissima, ho trovato una scuola molto ben diretta, lo dico sempre pubblicamente, la dirigente Loro, l'apprezzavo prima e so che lavoro nella sua scuola che è tutt'oggi mia e l'ammiro ancora di più. È una scuola splendida, ha avuto una bellissima accoglienza, ragazzi che si impegnano in tutto, un corpo docente coeso, sono non felice di più. Siamo così arrivati alla giornata di mercoledì, purtroppo la cronaca, in apertura dei nostri telegiornali, l'incidente verificatosi poche ore prima, conta una vittima sulla autostrada A12 tra Deiva e Sestri Levante a perdere la vita una dipendente di Enel di 48 anni, Giampaolo Carreddu. In tutto sono state diverse le persone coinvolte e i feriti per i quali però non c'è il rischio di perdita della vita. Parleremo di questo episodio ma anche per quanto riguarda la politica amministrativa del processo di fusione tra i comuni che porta sia vantaggi e garantisce servizi di qualità, ne parleremo con un esperto. E poi per quanto riguarda lo sport si è svolta il tradizionale ritrovo prenatalizio dell'Associazione Italiana Allenatori con la premiazione dei mister che si sono distinti nella scorsa stagione. Vediamo tutti i servizi. Aveva 48 anni Giampaolo Carreddu, la vittima dell'incidente, il secondo in ordine di tempo che si è verificato ieri pomeriggio lungo la A12. Attorno alle 15.30 fra Deiva Marina e Sestri Levante una Fiat Panda di Enel con a bordo due persone è andata a schiantarsi contro un auto articolato spinta con ogni probabilità da una betoniera che l'ha tamponata. Le due persone che si trovavano all'interno dell'auto, due uomini dipendenti Enel hanno subito gravissimi traumi. Carreddu, figlio del maresciallo dei carabinieri Salvatore che ispirò Mario Soldati per i nuovi racconti del maresciallo è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. Il personale del 118 della Spezia ha tentato la rianimazione sul posto ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il collega, un uomo di 52 anni è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova intubato e sedato ha riportato un trauma cranio-facciale con frattura dello zigomo sinistro sarà operato e resta sedato. La dinamica del gravissimo incidente sembra collegata a quanto accaduto circa un'ora e mezza prima attorno alle 14 quando fra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova nella Galleria Sant'Anna secondo la ricostruzione diffusa dai vigili del fuoco un furgone blindato porta valori ha tamponato un'autovettura e si è ribaltato su un fianco. I conducenti dei due mezzi hanno perso i sensi e sono stati estratti dalle lamiere grazie all'intervento dei pompieri. Trasportati all'ospedale San Martino uno con l'elicottero e l'altro con l'ambulanza sono in condizioni stabili. Non è escluso che la coda che si è formata in autostrada a seguito del primo incidente abbia causato il secondo. di certo la chiusura del casello di Sestri prima e di quello di Deiva poi ha causato il blocco del traffico anche sulla viabilità ordinaria da Casarza a Sestri e fino a Cavie e Lavagna. L'autostrada è stata riaperta dopo oltre tre ore dagli incidenti ma per smaltire le code ci sono volute altre due ore circa. Una serata in clima prenatalizio aperta dalla cerimonia di premiazione degli allenatori che nella stagione 2018-2019 hanno conseguito risultati importanti. Franco Montemarano vincitore del campionato di seconda categoria con la Ciasetta Roberto Coppello vincitore del campionato di terza categoria con il Rupinaro Sport Fabio Muzio vincitore della Coppa Liguria con la Caperanese ed Elio Ghilino che con la squadra femminile del Rupinaro Sport ha vinto Coppa Liguria Eccellenza e Coppa Italia Liguria Eccellenza. Premio alla carriera a Mirco Stagnaro. L'incontro organizzato dall'AIA Categullio ha avuto anche un risvolto formativo. Abbiamo portato due allenatori di una delle squadre che come settore giovanile sono al massimo in Europa quindi speriamo che tutti capiscano i sacrifici che fanno il direttivo AIAC di Chiavari per poter avere gente di questa portata. Le voci di due coordinatori nell'ambito delle giovanili dell'Inter hanno approfondito diversi temi a partire dall'approccio al giovane che non è mai solo sportivo. Abbiamo sempre cercato di stare un po' al passo con i tempi quindi di capire le problematiche che i ragazzi possono avere anche fuori dal campo per poi intervenire al meglio su quello che è il loro terreno più divertente quindi quello del campo da gioco. Un campo particolare è quello dei portieri sia in ordine agli allenamenti sia in ordine alle caratteristiche personali dell'atleta. Il portiere che nasce portiere in genere comunque nasce con delle attitudini da portiere che sono innate e il nostro ruolo è semplicemente quello poi di farlo migliorare e di portarlo avanti più possibile per poi un domani riuscire a fare questo lavoro. Motore di tutti i settori è la passione che coniughi l'aspetto sportivo alla sfida educativa. La cosa più importante è il percorso educativo formativo che facciamo quotidianamente con i ragazzi con i quali lavoriamo. L'aspetto sportivo chiaramente è quello su cui anche lavoriamo ma viene passa in secondo piano rispetto sicuramente a queste priorità. Se c'è la passione e la voglia di raggiungere gli obiettivi anche con fatica si può arrivare se non dovesse arrivare all'obiettivo finale comunque il percorso è un percorso importante formativo ed educativo e quindi non bisogna assolutamente abbandonarlo bisogna coltivarlo e portarlo avanti. La Corte dei Conti in uno studio dell'anno scorso ha certificato che le fusioni dei comuni generano sempre e comunque risparmi. Nel corso del 2019 in Italia sono state approvate 31 fusioni di comuni per lo più piccoli centri che hanno deciso che non bastava più la buona volontà dei sindaci per sopravvivere. Oggi lo spopolamento mette in crisi ad esempio la sostenibilità e la qualità dei servizi. La fusione rappresenta in molti casi una svolta non una spesa ma un investimento. Ne è convinto il presidente del coordinamento nazionale il Deivese Antonello Barbieri. I vantaggi sono ad esempio è possibile assumere inderogo al patto è possibile fare investimenti anche non rispettando il pareggio di bilancio che lega i comuni le risorse ottimizzare le macchine comunali che senso ha avere due uffici anagrafe per due comuni che magari sono a 5 km l'uno dall'altro e fanno 10 carte di identità al giorno o due. Ad esempio spiega a Barbieri in un panorama di dissesto sempre più critico la fusione potrebbe permettere di avere figure professionali in più che possono essere assunte immediatamente. Le fusioni consentirebbero di rimpinguare gli uffici tecnici ad esempio assumendo dei geologhi. Non solo due comuni fusi riceverebbero più soldi dallo Stato inoltre avrebbero un peso maggiore nell'affrontare certi temi con le istituzioni il pensiero di Barbieri va alla Fontana Buona. Il famoso tunnel io sono convintissimo che se l'interlocutore invece di essere parcellizzato in 9-11 comuni quanti sono se arrivassi ad un soggetto unico le possibilità aumenterebbero. In Italia il numero dei comuni è sceso sotto le 8.000 unità segno che le fusioni permesse da una legge nazionale e da leggi regionali sono possibili e funzionano. In Liguria si registra per ora un solo caso. Carpasio-Montaldo due comuni nell'imperiese sono partiti l'anno scorso cominciano a vedersi i primi risultati e sono molto contenti. lì il referendum ha prevalso il sì al 73%. Se facessimo un referendum ora saremmo vicini al 100%. I temi del lavoro adesso in sciopero la sessantina di dipendenti della IML di Casarza Ligure da tre mesi non ricevono lo stipendio nel corso di un presidio che si è svolto a Bargonasco è arrivata la notizia di un incontro convocato per il prossimo 19 di dicembre che affronterà proprio la problematica della scarsa liquidità dell'azienda parleremo di questo ma anche della neve che è tornata a imbiancare la Valdaveto anche a quote relativamente basse e poi un prolungamento di servizio per quanto riguarda la linea C2 gratuita di trasporto pubblico a Chiavari che toccherà anche il centro benedetto a Cuarone vediamo un incontro convocato per giovedì 19 dicembre a Genova tra l'azienda la regione Confidi e uno dei principali istituti bancari del territorio e il sindaco di Casarza Ligure a portare la novità ai lavoratori della IML di Bargonasco in presidio per protestare contro il mancato pagamento da parte dell'azienda di tre mensilità l'obiettivo è quello di cercare di trovare della liquidità per l'azienda per la famiglia che gestisce questa azienda da tanti anni famiglia che da quanto so comunque ha ancora intenzione di investire sul territorio intanto che il comune di Casarza vuole dare un segnale di sostegno a questa realtà in che modo ma intanto come abbiamo richiesta dei lavoratori di dare voce alle loro istanze quindi faremo un consiglio straordinario ad hoc penso proprio questo mercoledì prossimo mercoledì nel quale parleremo esclusivamente di questa problematica di questa crisi aziendale ricordiamo che noi ce ne siamo già occupati da tempo sia per quanto riguarda la problematica della frana di qualche anno fa ormai e anche poi proprio della crisi stessa Sicuramente occorrerà vedere gli esiti dell'incontro del 19 a Genova ma intanto la notizia è stata accolta positivamente dai lavoratori è un'ottima notizia perché finalmente si muove qualcosa i problemi di questa azienda sono sostanzialmente finanziari e quindi riuscire a reperire dei fondi per poter pagare soprattutto gli stipendi ma anche i fornitori è una notizia ottima vediamo gli sviluppi ovviamente però che finalmente politica e banche e istituzioni si muovono per sostenere questi lavoratori che sono solamente da elogiare per il comportamento che hanno tenuto finora quattro mesi quasi senza stipendio quindi hanno lavorato grazie quattro mesi per dare una mano all'azienda però meritano assolutamente delle risposte noi non avevamo altra possibilità che iniziare un percorso di agitazioni che parte da adesso ma sarà sicuramente nel lungo periodo se non si chiarirà qual è la situazione i lavoratori non possono più aspettare ormai c'è uno stress troppo elevato e mancano proprio i denari per portare il pane in tavola e quindi noi di sicuro faremo tutto il possibile per salvare l'azienda mantenela sul territorio perché 60 posti in lavoro non li possiamo assolutamente perdere inoltre IML è un marchio internazionale riconosciuto nel mondo da tutte le imprese petrolifere la giornata iniziata con un cielo coperto e nuvoloso ha tuttavia rischiarato la Val Daveto dove dalla serata di ieri nel corso della notte è tornata la neve i bianchi fiocchi sono scesi sino a quote medio-basse 600-500 metri e la coltre ha raggiunto un manto sui 5-10 centimetri in biancato Santo Stefano Daveto è anche la piana di Rezzo Aglio per tutta la mattinata sono stati in funzione i mezzi spargisale per evitare che le temperature piuttosto rigide possano favorire la formazione di ghiaccio la situazione è sotto controllo l'aspettavamo e diciamo che al momento non ha causato nessun problema le strade sono pulite sono tenute direi anche molto bene tutto nella massima efficienza i mezzi sia spargisale che spazzaneve sono tutti allertati quindi se si previene tempestivamente problemi non dovrebbero esserci Rezzo Aglio guarda con piacere il bianco candore sulle vette a corona della vallata colonina di mercurio sotto lo zero sul monte la ghiacciola rocca d'aveto al prato della cipolla e sul monte bue dove si è registrato il valore più basso con meno 5,6 gradi di buono auspicio per il secondo fine settimana di dicembre sempre più a ridosso delle festività natalizie per le quali si attende il pienone di turisti e quindi lavoro per gli esercizi di tutta la vallata è una neve che aspettavamo anche per il turismo sappiamo che a Santo Stefano insomma ci sono gli impianti quindi noi contiamo contiamo tanto che ne venga ancora e che soprattutto resista è una stagione che se nevica per noi significa anche lavoro magari le famiglie portano i bambini sulla neve il sabato e la domenica si lavora un po' di più adesso questo sabato noi abbiamo un raduno di Subaru e speriamo che le strade siano belle pulite in modo che tutti vengano a vedere le nostre auto i nostri mercatini noi ce la mettiamo tutta per per avere un po' anche di lavoro d'inverno che se no viene un po' a mancare via questo risultato è dovuto alla sinergia tra ATP comune ma anche centro Benedetta Acquarone che è un'eccellenza del nostro territorio già diverse volte Giuseppe Grigone mi ha sollecitato la possibilità di avere un collegamento di trasporto pubblico per i pazienti ma anche per i familiari in quanto qui siamo in cima a via San Pio Decipo e nessun mezzo pubblico arriva per cui abbiamo fatto questa questa modifica al tratto della linea C2 che dal primo gennaio e per tutto l'anno permetterà ogni due ore un collegamento con il centro Acquarone in maniera completamente gratuita i dati della linea C2 dell'anno 2019 sono estremamente positivi in 11 mesi oltre 43.500 persone hanno utilizzato questo mezzo che ha permesso alle famiglie di andare gratis al mare e inoltre ha permesso un collegamento con l'ex ospedale di Chiavari anche questa è una zona che non era servita dal mezzo pubblico è una linea che è nata con valenza turistica riguardava soltanto la passeggiata a mare poi estesa la parte ponenta alla zona di piazza Toriglia a Corso Buenos Aires di Chiavari e adesso diciamo l'ulteriore modifica è estenderla fino al centro Benedetta Acquarone sono dieci corse che raggiungono questo punto di attrazione per noi non nuovo perché lo raggiungiamo già con tutti i servizi diciamo dedicati commissionati dai comuni prevalentemente di Sestilevante e Lavagna adesso un'estensione al trasporto pubblico locale fa sì che anche i visitatori non solo gli ospiti hanno questo servizio questo era un sogno che da tempo coltivavamo è un sogno diciamo che è nel DNA del nostro centro sapete che lo slogan del centro Acquarone è uno slogan cognato da Don Nando era la città dentro e questa è veramente la rappresentazione più concreta di avere la città dentro richiesto dagli ospiti che ne potranno fruire in uscita per raggiungere il centro cittadino richiesto dai familiari che potranno venire a trovare gli ospiti che sono in trattamento residenziale è richiesto da quei grandi numeri di persone che frequentano il centro per le attività ricreative ecco quante attività ci sono al di là dell'aspetto residenziale all'interno dell'acquarone da un punto di vista quantitativo i numeri più importanti li facciamo proprio nei servizi ricreativi e sportivi quindi non so contro 70-80 posti letto e un centinaio di persone che frequentano i servizi per anziani iperdisabili a carattere diurno parliamo di 7-800 persone che frequentano il centro per le attività sportive la politica amministrativa ci porta a Lavagna si è riunito il consiglio comunale è stata ritirata la delibera che prevedeva l'affidamento in esterno del servizio di asilo nido per una causa di mancanza di risorse sarà riproposta e riaffrontata anche con la collaborazione delle minoranze in consiglio sempre a Lavagna ha riaperto un luogo storico di Palazzo Franzoni sede proprio del comune ovvero una cappella risalente al 1600 e poi per quanto riguarda i restauri della cattedrale continuano le iniziative di raccolta fondi per sostenerne i costi tra questi l'asta di dipinti donati dalla confraternita Fidus Alma c'è stato un primo appuntamento con alcune opere che sono già state vendute parleremo di tutto questo nei prossimi servizi vediamo Già ad agosto la giunta aveva espresso l'intenzione di esternalizzare l'asilo nido comunale a causa del dissesto ma è sul piano metodologico che la decisione ha subito critiche la pratica portata in consiglio poi ritirata chiedeva di votare la chiusura dell'asilo procedura ritenuta dal forum famiglie inaccettabile di solito spiega Raffaele Loiacono prima si verifica la possibilità di esternalizzare poi si chiude come forum prosegue Loiacono siamo rimasti spiazzati anche alla luce dei recenti incontri e del protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti come detto però in consiglio la pratica è stata ritirata all'unanimità il sindaco ha sottolineato di voler trovare una soluzione che consenta di verificare la qualità del servizio fornito da chi svolgerà l'appalto quindi il prossimo passo quale sarà? sarà la redazione di un bando in modo che questo servizio sia pure non gestito direttamente dal comune consenta di realizzare due finalità la prima quella di mantenere inalterato il servizio che viene offerto e possibilmente anche migliorarlo il secondo di andare a contenere i costi perché è una delle finalità che vengono proprio poste in capo agli amministratori di un comune dissestato il primo cittadino riflette poi anche sulla questione del personale il servizio è portato avanti da otto operatrici di cui due dipendenti comunali prossimi alla pensione e una terza che si ritirerà nel 2020 con uno stato di dissesto che soffia sul collo del comune e che non permette nuove assunzioni per non parlare poi dei costi dell'asilo il costo complessivo è di circa 300.000 euro 284.000 per l'esattezza mitigato dall'incasso delle rette che vengono riscosse dagli utenti che sono circa nell'ordine di 90.000 euro pertanto incide per circa 200.000 sulle casse sociali il forum si dice disponibile a collaborare e chiede di essere tenuto aggiornato sulla vicenda e di poter partecipare alla ricerca di soluzioni condivise anche l'opposizione dà la propria disponibilità chiede di trovare soluzioni non definitive ma che possano essere riviste alla fine dello stato di dissesto era il 1600 quando la famiglia Franzoni costruì a lavagna un palazzo come residenza estiva e come era consueto adibì uno spazio a luogo di culto una cappella ornata con pala d'altare e affreschi che è rimasta dimenticata per un lungo tempo ed utilizzata come deposito qualche mese fa abbiamo voluto introdurci nella cappella e abbiamo notato che era utilizzato praticamente come magazzino allora abbiamo deciso immediatamente di provvedere al restauro cioè più che restauro a cercare di rimetterla a posto ecco quindi c'è stata un'opera più che altro di pulizia si tratta di uno dei pochi luoghi di questo tipo a non essere stata a paeria di vita ad uso abitativo civile come accaduto in altri palazzi simili la cappella è stata ufficiata per moltissimi anni perché mi risulta che nel 1800 cioè praticamente 200 anni fa si sposavano ancora i giovani bene di Lavagna in questa cappella poi pian pianino ha subito un po' le storie di tutta questa zona ma io ricordo da ragazzina che questa cappella ogni domenica era aperta dall'alba al tramonto ed era aperta quando c'erano le processioni religiose sotto l'altade sono state trovate anche alcune reliquie presumibilmente appartenenti ad uno di Papi Leone e acquistate dalla famiglia Franzoni durante un viaggio a Roma adesso dopo la riapertura la cappella attende restauri certo sarà un lavoro lungo perché ci sarà da rimettere insieme le pareti ripulire eccetera e soprattutto restaurare la pala che ha subito un notevole taglio io suppongo che qualcuno abbia urtato il candelabro e che un candelabro abbia urtato la tela l'abbia fatta bene io mi auguro che il comune che ha raccolto un po' il mio appello continui a trattarla bene se ci deve fare delle cerimonie come si faceva nell'ottocento che ce le faccia ma che la renda viva per la città io penso che l'80% dei lavagnesi non sappiano nemmeno che esiste 5 opere vendute all'asta per un incasso di 2200 euro un primo segnale arriva da Chiavari e dal territorio a favore della cattedrale la raccolta fondi promossa dalla confraternita Fidus Alma è andata in scena nei locali della società economica tiepida la risposta delle persone ma non la cifra finale una piccola ma significativa goccia nel mare di lavori che interessano la cattedrale e che premia chi ha voluto mettersi in gioco in prima persona per sostenere questo bene così prezioso il ricavato è stato consegnato alla società operaia cattolica nostra signora dell'orto adesso è stata fatta la cupola poi ci sono i due il transetto e poi c'è anche sopra l'altare sono diversi i lotti quindi si spera che questa organizzazione di vendita di quadri e ceramiche porti un buon risultato in modo che si possa procedere nei lavori all'asta tele sculture ceramiche e altro ancora l'idea è di ripetere questa originale esperienza che si è svolta come nelle più rinomate case d'asta con tanto di passarella delle opere gara rialzo del prezzo e chiusura con colpo di martello sono ancora rimaste delle opere cosiddette invendute e quindi sarà ripetuta questa volta invece in una sala del seminario ci siamo già messi d'accordo con la curia e quindi la ripeteremo alla data è da destinarsi comunque la gente sappia che le opere cosiddette invendute si trovano ancora qui nello spazio Casoni per tutto il tempo della preparazione e quindi ringrazio tutti quanti hanno collaborato e hanno avuto modo di partecipare a questa prima asta che è a favore degli affreschi della nostra signora dell'Orto andiamo adesso a Portofino il borgo si è rivestito di nuova luce grazie all'installazione del globo terraqueo la cui inaugurazione si è svolta proprio nella giornata di venerdì sera un'installazione che proietta luci suggestive su tutto il borgo intanto il comune ha aderito anche alla Liguria Film Commission di tutto questo ci parlano i prossimi servizi la magica atmosfera del borgo di Portofino si arricchisce di un nuovo suggestivo dettaglio una sfera d'acciaio alta a due metri e mezzo collocata in mezzo alla passerella galleggiante stesa sulle acque del porto l'opera frutto della fantasia dell'ingegno dello scultore Marco Nero Rotelli simboleggia il mondo sospeso tra terra e acqua su questo progetto mi sono ispirato le mie cifre stilistiche perché ognuno può dire le cose attraverso quello che è capace di fare quindi non potevo fare altro che non affidarmi alla voce della poesia che è sempre stata diciamo così il mio sostegno mentale e i grandi poeti che mi hanno aiutato in questo progetto inviandomi le poesie da Conte a Donisi e poi il mio fare appunto è stato quello di trasformarle in luce la realizzazione resterà collocata sulla prodo portofinese sino al 20 gennaio i visitatori potranno beneficiare in questo periodo di una riduzione delle tariffe dei parcheggi un progetto che rilancia il turismo invernale sfruttando energia verde questa sfera qua ricordo che è alimentata anche con l'energia del monte di Portofino ecco l'energia prodotta dal vento dall'acqua e dal sole le luci artificiali rischiarate da una splendida luna hanno donato al borgo marinare un aspetto decisamente natalizio e questo credo che sia la migliore rappresentazione di un presepe ligure abbiamo uno splendido paese una bellissima piazzetta animata da tutti i suoi personaggi illuminata dall'albero delle nostre tradizioni e con un tocco di futuro e di arte che galleggia sul nostro splendido mare musica suono informazioni vengono diffuse attraverso la sfera che dona ai suoi visitatori tante emozioni Portofino riesce sempre a creare delle cose incredibilmente belle veramente Portofino è un posto magico quindi è quello che vedete le luci soffuse l'intimità l'accoglienza Portofino a me ha regalato una grande emozione e una grande magia la vita è importante nella vita vivere queste queste emozioni cosa rappresenta per voi? tanto per noi rappresenta un grande onore perché Portofino rappresenta il nostro ferro all'occhiello già a livello internazionale noi abbiamo sempre portato Portofino come uno dei nostri punti di forza però avendo adesso all'interno dei nostri entri soci anche questa città fantastica penso che avremo dei numeri in più da proporre in Italia e all'estero quali sono i numeri di Genova Film Commission? a livello di produzione ne abbiamo più di 400 all'anno quindi più di uno al giorno a livello di shooting siamo sui 600 all'anno quindi casi di produzione che vengono in Liguria per cercare delle location dedicate e poi le notti alberghiere che sono un dato importante di sviluppo economico sono più di 4.400 Per la Liguria che cosa rappresenta avere questa realtà? Film Commission riesce a dare ospitalità e presenza organizzazione a tutte quelle produzioni che arrivano da fuori e che vogliono girare che siano spot film o fiction nella nostra regione chiaramente questo è un'operatività e un sostegno organizzativo che diventa anche motore culturale perché chiaramente riuscire a promuovere la nostra regione vuol dire fare un'operazione culturale e anche un'operazione di promozione turistica che tutto questo poi è una ricaduta anche economica non soltanto per le preziose 4.000 e oltre camere d'albergo ogni anno ma anche per quelle industrie dell'audiovisivo quelle società che abbiamo nella nostra regione e che chiaramente più set arrivano più compagnie arrivano e più produzione arrivano e più ovviamente riescono a lavorare 407 vuol dire più di uno al giorno e credo che sia un dato molto alto siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG guardando la settimana il nostro approfondimento è dedicato ai temi della sanità nel corso della settimana è stato presentato il bilancio sociale 2018 della ASLE 4 ma è stata anche l'occasione questa per fare il punto sul piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in particolare sono stati presentati nuovi reparti che andranno a inserirsi nella struttura dell'ospedale di Sestri Levante e anche le tempistiche sono state illustrate le tempistiche per quanto riguarda il pronto soccorso e i lavori di riqualificazione vedremo tutto questo nei prossimi servizi al termine si conclude questa edizione del TG guardando la settimana il prossimo appuntamento torna fra sette giorni grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata il primo lotto del pronto soccorso di Lavagna è dedicata alla traumatologia d'urgenza che si possa aprire l'unità di agenza infermieristica fortemente voluto dal nostro assessore che è un fiore all'occhiello nella gestione dei percorsi di integrazione ospedale e territorio e dell'ampliamento dell'ospice di Chiavari Saranno il pronto soccorso di Lavagna il polo riabilitativo di Sestre Levante e l'ospice di Chiavari i primi tasselli che andranno a posto nel complesso quadro di riqualificazione e valorizzazione delle strutture sanitarie dell'ASD4 Nella giornata dedicata alla trasparenza e alla presentazione del bilancio sociale 2018 dell'ente tenutasi alla società economica di Chiavari la direttrice ha avuto modo di illustrare sia lo stato degli interventi eseguiti sia quelli che nei prossimi anni diventeranno concreti a conclusione di un percorso avviato da diverso tempo particolare attenzione è stata riservata all'ospedale di Sestre Levante struttura al centro di un acceso dibattito politico che si conferma punto di riferimento per l'oncologia e la riabilitazione e nei prossimi mesi vedrà l'apertura di tre nuovi reparti al sesto al quinto e al terzo piano Siamo potenziando la riabilitazione motoria sono in corso i lavori di ristrutturazione al sesto piano la gara è stata aggiudicata nei prossimi mesi vedremo i risultati che prevede un ampliamento dei posti letto dell'adegenza nuove palestre nuovi spazi riabilitativi all'aperto sia per la riabilitazione motoria che per la riabilitazione respiratoria il terzo piano verrà completamente rivisitato per la nuova unità adegenza infermieristica che occuperà gli spazi della ex urologia il terzo piano dell'ospedale di Sestre andrà ad ospitare anche un nuovo centro per disturbi alimentari che si andrà ad integrare con quello dei disturbi respiratori e il nuovo dei hospital multidisciplinare la riabilitazione infantile sarà ospitata al terzo e al quinto piano con il potenziamento del centro di educazione motoria e della neuropsichiatria infanzia e adolescenza per quanto riguarda l'ospedale di Rapallo viene confermata la sua vocazione di polo per la chirurgia a media e bassa complessità e l'ortopedia con un blocco operatorio in funzione dalle 8 alle 20 che ha permesso di ridurre i tempi di attesa per quanto riguarda l'ospedale di Chiavari la novità interesserà l'ospis dove verranno messi a disposizione altri due posti per quello di Lavagna invece a breve si vedranno i frutti della riqualificazione del pronto soccorso stiamo facendo un investimento che è oltre un milione e 700 mila euro e a brevissimo apriremo il primo lotto tutta l'area nuova dedicata alla traumatologia d'urgenza verrà aperta in pronto soccorso nel mese di gennaio sarà quello che andrà ad ospitare la traumatologia d'urgenza il primo lotto che sarà aperto per il nuovo pronto soccorso di Lavagna sono in fase di ultimazione i primi lavori di potenziamento dell'area delle emergenze del nosocomio lavagnese partiti con l'apertura della nuova palazzina della salute mentale e il trasferimento di alcuni reparti come richiesto dal decreto Balduzzi il pronto soccorso di Lavagna era una priorità dovevamo prima di tutto consolidare il DEA con la presenza delle specialità che mancavano secondo il decreto Balduzzi quindi non eravamo in linea con gli standard ministeriali il trasferimento di urologio Torino la realizzazione della nuova piastra cistoscopica e coloscopica ci ha permesso di raggiungere tutti gli standard previsti gli altri due lotti di intervento riguarderanno la sistemazione del nuovo ingresso che migliorerà la capacità di accoglienza del pronto soccorso e durante la presentazione del bilancio sociale 2018 sono stati mostrati alcuni render fotografici che hanno fatto vedere quale sarà l'aspetto del nuovo pronto soccorso e la realizzazione della quinta sala operatoria che andrà a completare il blocco e proprio sulla questione dei blocchi operatori ridotti a due dopo la chiusura di quello di Sestre Levante la direttrice della ASD ha ribadito la completa sinergia con l'ospedale di Rapallo e i risultati ottenuti con l'ottimizzazione delle risorse Se noi pensiamo che fino a due anni fa l'azienda disponeva di tre blocchi operatori che rivolavano soltanto alla mattina con un impiego di risorse estremamente importante oggi abbiamo due blocchi operatori altamente efficienti perfettamente innovativi e che lavorano dalle 8 alle 20 tutti i giorni che ci ha permesso di affrontare la problematica della criticità di personale ad esempio personale rianimatore in particolare voi sapete che oggi gli specialisti sono in difficoltà non si trovano specialisti soprattutto in alcune branche e quella dell'anestesia e rianimazione è una di queste avere centralizzato l'attività sui due centri ci ha permesso un'attività di grande efficacia a propiatezza ed efficienza a propiatezza a propiatezza a propiatezza